Buongiorno, faccio dei lavoretti, uncinetto, cucito, chiacchierino. Vorrei venderli, ma non so come fare per non incorrere a sanzioni, anche perché sarebbero da esporre. Avevo già provato a chiedere per il fai da te, ma non avevo avuto grandi soddisfazioni come risposte. Le ringrazio, buon lavoro. Buongiorno signora, allora per vendere oggetti in via occasionale non è necessario aprire per forza una partita IVA. Ad esempio si può vendere in mercatini e in tal caso bisogna mostrare a richiesta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, cioè la cosiddetta dichiarazione di vendita temporanea, in cui si afferma di esercitare l'attività di esposizione e vendita di proprie opere dell'ingegno senza necessità di autorizzazione amministrativa, precisando sempre in questo documento che la vendita viene effettuata occasionalmente e non abitualmente. Poi si deve munire di un blocchetto di ricevute non fiscali, nella ricevuta si deve riportare il nome e cognome di chi vende e di chi acquista e la cifra in euro ricevuta dall'acquirente. Se l'importo ricevuto supera 77,46 euro si deve poi apporre una marca da bollo da 2 euro. Il compenso derivante dalla vendita di questi oggetti deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi all'interno del quadro Redditi diversi e il quadro D del modello 730. Bene, spero che sia stata chiara la risposta. , sì C'è fatto che sia stata chiara la risposta. It's 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 It's